Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Sto facendo l'analisi celebrale attraverso il mio elettroencefalografo e sto effettuando dei riscontri di frequenze anomale che vengono sparate dal satellite spia in arma ad energia diretta transcranica attraverso campi elettromagnetici di disturbo e generatori di rumore o generatori di frequenze che cambiano le nostre otto frequenze fisiologiche attraverso i parametri cerebrali. Come possiamo vedere questo semplice elettroencefalografo legge le frequenze halpa, beta, delta, gamma e teta. Ovviamente legge anche le frequenze del rav attraverso i parametri delle frequenze dirette fisiologiche e frequenze dirette celebrali. Come avete potuto vedere quando io ho iniziato a parlare le frequenze erano calme, tranquille. Le SS che operano attraverso questi laboratori mi stanno immettendo delle patologie dirette nel cervello perché mi vedono in telecamera a scansione sintetica dentro casa con telecamera a raggi X satellitari che vedono fino a 100 metri sottoterra e attraverso questi sistemi loro vedono e puntano le parti del nostro corpo che devono essere bombardate e sparate attraverso i satelliti di spia. Quando le persone mi contattano e mi scrivono sia attraverso l'email, attraverso la mia radio web emiliano babilonia spricher o angeli custodi mk ultra italia spricher oppure i canali di youtube emiliano babilonia emiliano babilonia bis oppure angeli custodi mk ultra youtube e molti altri canali. Io ho fatto delle ricerche ho fatto delle analisi stiamo facendo stiamo creando un gruppo di ricercatori analisti che operano nel campo elettronico in elettromagnetico in campo di fisica in campo di medicina quando noi facciamo queste analisi poi facciamo le pubblicazioni abbiamo i riscontri come avete potuto vedere le ss dai laboratori mi stanno attaccando con l'arma di energia diretta cambiando le mie frequenze fisiologiche e hanno cambiato tutti i parametri della stabilizzazione delle frequenze armoniche come vedete tutte le frequenze guardate tutte le frequenze si stanno alterando e io sono diventato una sorta di manchurian candidate con frequenze di manipolazione all'alterazione perché loro parlandomi in testa e mettendomi frasi continue che non c'entrano niente con la mia ricerca con i miei studi e con le analisi che sto facendo loro cambiano le mie frequenze deduzionali cambiano le mie parole e mi fanno credere cose che non sono la realtà della tecnologia o la realtà di fatti ma non possono farlo a me direttamente perché io ho l'analizzatore che fa vedere perfettamente tutti gli attacchi tutte le manipolazioni ovviamente essendo che questo è un elettroencefalografo che funziona a distanza dal computer non siamo collegati direttamente e tutto ciò che passa attraverso il mio cervello frequenze dei campi elettrici frequenze dei campi elettromagnetici frequenze di arma d'attacco a microonde a infrarossi ad elettromagnetismo passa per forza attraverso le frequenze celebrali attraverso un'analisi delle frequenze grezze quando venite a roma dovete portare per lo meno delle ferti medici di un elettroencefalografo e mentre fate l'elettroencefalografo dal dottore vi dovete segnare tutti gli avvenimenti che accadono dovete cercare di registrare tutto quello che vi succede perché quando voi state al pronto soccorso o state davanti da un dottore o state da un da un specialista all'interno degli ospedali loro tendono a levarvi tutti gli attacchi e tutti i disturbi come si possono fregare queste persone effettuando un'analisi permanente con elettroencefalografi con strumentazione propria io ho il misuratore della pressione ho un misuratore del battito cardiaco che fa l'ecg un elettroencefalografo analizzatore di campi elettromagnetici analizzatore di frequenze della risonanza di schumann analizzatore di frequenze a modulazione elf o generatori di segnale o generatori di rumore o generatori di frequenze voi con semplici apparecchietti con semplici telecamere con semplici cellulari con semplici apparecchiature che non servono per effettuare le analisi fisiologiche il gemmer non serve a niente i stabilizzatori delle frequenze con le antenne argoniche non servono a niente voi dovete seguire le mie ricerche se volete venire a roma dovete venire a fare le testimonianze e dovete venire a fare le analisi che stiamo facendo anche noi perché noi riscontriamo su 10 20 30 40 50 persone attaccate con le armi ad energie dirette determinate patologie e così possiamo vedere se voi veramente siete attaccati o se sono vostre patologie o vostre suggestioni perché la persona che viene a roma e dice è il vicino di casa è il portiere è l'opus dei è la scuola è l'università è il mio ex ragazzo sono persone che vogliono far distorcere la realtà dei fatti per farvi sembrare e per aggirare la vostra capacità di ragionamento facendo questo loro vogliono far credere che voi siete dei pazzi schizofrenici malati di mente e esauriti per me voi siete solamente plagiati dal sistema di controllo mentale e non siete in grado a livello tecnico a livello tecnologico a livello di ricerca e di analisi a capire come funziona l'alta tecnologia in elettroencefalografo transcranico ad arma d'energia diretta in telecamera sintetica sia in campo elettromagnetico sia in analisi a scansione sintetica e termica mentre stiamo dentro casa e mentre camminiamo per strada usano il nostro corpo come una sorta di antenna ad analisi diretta celebrale e noi siamo un sensore umano di frequenze di tecnologie di sperimentazione con l'auto di armi satellitari armi di distruzione di massa armi di manipolazione di massa che costano centinaia di miliardi di euro e non le troverete certo su internet non le troverete certo su questi siti che vendono questi prodotti per per lo spionaggio per l'intercettazione non le troverete perché costano talmente tanto che manco una transazione bancaria riuscirebbe a far spostare miliardi di euro per comprare una tecnologia del genere grazie Grazie!